Perché siete qui davanti al palazzo della consulta a manifestare? Ieri si è consumato una delle più grandi vergogne di questo paese, 570 mila firme circa sono state banalizzate da una consulta che non ha avuto la capacità proprio di capire che in questo momento storico una legge come quella della Fornero vada e debba essere sicuramente modificata se non annullata. Adesso tutti si stanno un po' sciacquando la bocca dicendo che questa cosa va modificata nelle opportuni sedi ma io dico invece che potevano tranquillamente lasciare dar corso a quello che è un referendum fortemente voluto, sì dal nostro movimento ma in generale a tutti i lavoratori. La legge Fornero ha creato una disparità di trattamento nei confronti di gente che si è trovata senza pensione, senza lavoro in un'età particolarissima e quindi questa è una delle motivazioni principali. E poi crediamo che più che parlare di legge elettorale, parlare di riforme costituzionali, credo che quella del lavoro sia una delle considerazioni più importanti che questo governo dovrebbe tener conto, cosa che non è e noi faremo battaglia fino in fondo.